I coglioni stanno iniziando a ruotare, Fede Quello vi ho mai preso? Non so, penso proprio di no, altrimenti ce lo saremmo ricordati Ecco, pazzo Minchia, Fede è qualsicolosi, sì Cos'è questo? È cambiato Ah, le talpe Solo le talpe, allora Ah no, vedi, dovevo colpire anche quelli, però Eh, vedi, le vere talpe no Ah, è Mard Baaah Quindi non le talpe, se diciamo Cioè le talpe non fanno niente, non danno niente E i... Tipi da occhi danno un casino Tipi da occhi danno un casino, perché sarebbe tipo il boss Ah Ah I lost, let you go Mi navraugstate di tutto il suo meglio Ah, vedi, ti fa saltare la fine del livello Ah Sìììììììììì, per modираio Via via, prima, ciao Ma è però un gioco che preme nel netto Oh, anche il cue, voglio dire, salti su una piattaforma a caso Esce quella merda Esce un gioco che non gli devi del capo di fare Perché non stia conto di spiegazione E che altro ti inganna pure Perché c'è Il gioco si chiama colpisci la talpa Ma devi solpire tutto meno che le talpe Sì Ma abbiamo anche il triplo tra l'altro Sì, triplo tre Ok, otto Adesso può trappi Madonna Abbiamo vinto Porco Dio Con il triplo cambia proprio la vita È vero Abbiamo 5 vita e 6 continui Non gasiamocela Non gasiamocela troppo Porco Dio Cazzo E in più saltiamo il livello, perfetto È diverso però È difficile vedere Quando spunta Bene Mancava una cosa Fatto Che Mentre difficile Sì Piccato perché ha quello più difficile Beccarli e Non sarà in più Dell'altro Avamo così capito Dove spuntava Muori a un certo punto Muori Figna di merda Sì, porco Dio Ooooooh Ma che culo Madonna vabbè che senza senso finora si sta fondando di culo in maniera insensata è vero un pelo perché il mio nervo è scattato senza che io volessi che ansia questo è il gioco di vero quando la piega è diversa con la mentalità di doverlo finire e risprimere tutta la vita sì ancora uno forse porco che pirla ma dai porco di bacola tranquillo tranquillo oh ma è orto il cazzo porco porco dio madonna nooo figlio di puttana no ma vedi che cambia passato no cambia non è mai uguale no ma figlio di puttana guarda che stronzo stranza oh cazzo stai vai 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 eh porco corri con un figlio di puttana nooo porco pio dell'oro pio d'oro perché nessuno lo venera madonna non so ma cazzo quindi l'orcodio l'orcodio porcodio fallo te ti senti tanto nervoso divento mamma mia cazzo porcodio era qui era la fine se no a livello 12 abbiamo ancora 6 continuo continuo a sparare va beh giacosie non mi fido di arrivare più nel pizzo ha capito che si sta che cazzo devo fare? saltare per nessuno aaaah però si ma cioè come quello delle bottiglie solo a infinito merda aspetta cosa vuol dire quello c'è si madonna madonna se farà ogni salto perfetto madonna dai qui non sa quale quale figlio di madre galeotta hai inventato questa merda ma non si rompe neanche il primo piano e non è questo livello è folla comunque nooo era una saltata perchè scendeva gli scalini merda ampi sangue freddo sovi morti ampi sangue freddo adattami e l'ucerato sovi i basi del cazzo cioè così che saltano dai dio cane eh è l'ultimo livello spero sto qua non so non lo so no perchè non riesco alla capacità mia come se esercivo così peggiore di questo semplicemente madonna porco dio ah dai però non è giusto non è giusto neanche finalmente teppi un ah ah eh ma porco dio c'è siccome cazzo dovrei fare lì o salgo di tutto di filato si vai 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 non ti so scendere sempre le scale ah però ah non c'è quello che è scena c'è quello che è scena che inculata di merda che inculata dai quasi del dio cane permettendo che inculata bravissimo vai 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 ah madonna no pure ma che compiere pure l'invice adesso non lo so però ti è da pazzi no dai ma perché non salta ma perché il fatto è che quando stai salendo una scala non puoi saltare se sta salendo lo scalino non so come spiegarti vedi che si blocca non salta se sto salendo quindi a volte ti inculi quindi l'ultima vita è questo ok ora l'ultima dove ho potuto capire l'amor game over ragazzi ma poi ce l'ho so il mio regno di notte non so se te l'hai già successo ma non è proprio ma non ci siamo persi sì dove cazzo ero dove cazzo ero allora qui c'era madonna cosa c'è adesso c'è questo è già di scalinata sì e allora cazzo incredibile pensare che siamo di nuovo arrivati qua ma nooo che puttana adesso prima co sì nooo lo trovo a scendere nooo ma merda non si possono saltare praticamente sono troppo in alto e se l'hai ricreato oppure lo spara ingarnaggi ah non ho solo mica accorto sì allora era spacciato allora subito corri 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 adesso sta lì corri di incontro corri di contro il cuore contro il crato è l'ultima è mega difficile questo è subito parlato e ma non direi che cazzo ci aspetta ma infatti altre mi chinavano magari non mi ha investegnato che anche i dei gizzi sarebbero scesi da panchettare con il dio barco e ma e ma e ma e ma un chianti 3 6 dove c'è poi c'è solo la scoperviver si cosa solo la scopervia ed è rosa il più ricchione il più forte il jolly bene oh controattacco solo ma no non pensavo che rilassissi questi livelli di strategia al pizza contest è scritto dai che cagato è un gioco di merda guarda senza doppio erano proprio messi di così ma forse perdeva per le carte finite perdeva per le carte finite si ma se finisce perde con più punti di noi perdiamo noi l'altra volta si si è troppo un po' così in cima adesso eh chi è c'è 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 magari il boss finale è una battaglia al pizza contest il bus fa c'è 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 con tutti i bonus che mi sto dando a difigrare c'è c'è l'aspirapolver mi sta spegnendo via ah allora deve essere lui il boss ah è una buona colpire qua no non cazzo no perché devo scrivere quella bolla bolla piccola ma magari questi non servono cazzo cioè sarebbe veramente un impolato se non servono cazzo nel dubbio sì caso so che sicuro i punti che non puoi non prendermi in pratica che bastardo ahhh ah ottimo ah non sapeva un cazzo però cosa fa quello mi sapeva nostro cioè riel questo e il strumento tutti i miei nemici E' mo' fotte, e' mo' fotte E' mo' pieta l'impuro, ma non ci sto dicendo Beh, però dai Sembra fattiglio, si Penso a fare il perfetto da lui Ed è l'ultimo, quindi serve un cazzo Però Ho l'impressione che dovremmo rifarlo L'impressione che prendiamo dal futuro ormai E' ripeto Non è un bel cuore Ah no, prove di Beh, abbiamo detto, abbiamo detto, abbiamo detto Comunque noi Era proprio che ci aveva Ah, un'ambiana tu O forse non avevamo le carte extra Cioè nel senso che il pepe Nel pepe e nell'altro Non ci posso credere Stavamo per cele Ma quindi l'ultimo pizza contest è solo per rompere il coglione alla fine Ne avrò più Praticamente sì, perché basta che tu abbia un pepe, no? Sì E' l'idea di piccarti di lui No Cioè questa è la scena finale, il premio per avvertito il gioco E non puoi lavorarlo Ah no, ok, pensavo che ci sono quei schermate finale che non si interrompono mai Che poi in Sonic e quando lo finisci c'è sempre il cattivo come si chiama Eggman Sì Che salta sulla game over di Android e ci salta sopra all'infinito Nel senso che... Sì No! Ma mai riusciamo più a smettere di cominciare Tutto se no che è figo, cioè... C'è un gioco che ci giocherai un'altra volta Sì, certo Per non sentire queste teme Ma per ora... Affanculo Fatto Un pazzo finito Non ci posso veramente credere E come... Tenendo... Tra l'altro sei... Continua Madonna, avevo di grassa stavolta Con solo, penso, 8 ore di gioco o qualcosa del genere 5-9 forse, forse Da andar nei fieri, stavolta sì Da non dirlo in giro, ma da andar nei fieri Sì